cari amici ben ritrovati in questo nuovo video io sono sempre in modalità bandito perché è un freddo che si zizzola ma è qua alle mie spalle abbiamo il monte piglione ebbene sì oggi hiking verso il monte piglione continuiamo questa come dire questa serie di escursioni nel nella zona sud delle alpi apuane e quindi oggi oggi ci dirigiamo appunto verso il monte piglione che è un monte un po particolare perché è costituito da due cime ora mi levo un attimo qui la cosa da bandito è costituito da due cime ha una forma un po particolare leggermente arcuata con tutta questa questa cresta e appunto c'è la cima nord della cima sud diciamo niente di di trascendentale la cima nord e poco sopra 1200 metri la cima sud è poco poco sopra i 1100 quindi chiaramente non parliamo di vette dolomitiche o di monte bianco e monte rosa però tant'è il panorama comunque è spettacolare già arrivando qui perché abitando io nella parte ovest diciamo nella zona ovest rispetto alle apuane riesco ad arrivare da questi paesini che sono già in quota quindi chiaramente lo potete lo potete dedurre vedendo dalle mie spalle io sono già a 900 metri quindi chiaramente salire non c'è questo tutto questo dislivello come dalla dall'altra zona dalla parte più est dove c'è comunque la valle e c'è il mare poi proseguendo quindi chiaramente tutto questo questo susseguirsi questo dedalo di sentieri che c'è nella zona non solo qui chiaramente in tutta la parte delle delle alpi apuane dalla zona est quindi salendo dall'altra parte per capirsi nella zona dove eravamo di grotta all'onda e quindi nel camaiorese l'altra zona chiaramente partendo dal più basso si fa un po più di fatica però insomma va bene noi oggi siamo qua siamo qua e ci incamminiamo e verso verso il monte piglione e andiamo a vedere di quali panorami potremo godere secondo me dei bellissimi panorami perché già arrivando qui mi sono dovuto fermare un attimo in silenzio a guardare perché i panorami erano veramente belli e c'è ancora un po di neve sulle strade e nelle zone in ombra ho già discorso anche troppo quindi state con me venite con in questa in questo hiking verso il monte piglione andiamo la vetta sud ci siamo quasi comunque qua sotto un po di neve ancora rimasta pochettino c'è ma guarda panorami guarda panorami dove v'ho portato anche oggi la bellezza delle nostre alpi apuane guarda la via verso la cima sud andiamo nord scusate ho detto sud mamma mia scusate cima nord volevo dire e la stanchezza oggi l'ho presa di petto mi sono stancato cima nord scusate cima nord andiamo l'ho presa di petto mi sono stancato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma fidatevi che le nostre Alpi Apoane non hanno niente da invidiare a nessuno. I panorami sono eccezionali. Basta, non credo ci sia altro da dire. Dunque, ci appropriamo alla discesa dalla vetta sud. E devo dire che questo Montepiglione ha riservato delle sorprese anche in termini di difficoltà e fatica. Difficoltà, vabbè, insomma, relativa. Però monta, benché sia bassino, monta. Quindi mi sto dirigendo per un sentiero che non ho fatto prima perché sono passato da un'altra parte, verso la valle. E le gambine sono un po' stanche, quindi piano piano in questa discesa e poi dopo ci salutiamo. Il sentierino, scusate l'ombra, ma siamo spalle al sole. Questo è il sentierino. E qua sullo sfondo, gli appennini. Il sentierino, scusate l'ombra, ma siamo spalle. Cari amici, sono sconquassato. Da uscita semplice, un hiking passeggiata che doveva essere, si è trasformato in un'avventura. Il sentiero durante il tragitto non segnato bene. Ho volutamente evitato di dire che ho fatto dei fuori traccia paurosi, paurosi. Anche al ritorno. Va bene, l'importante è essere tornati. Quindi, che dire, al di là di questi inconvenienti faticosi, panorami bellissimi. Io sono veramente rimasto estasiato dal panorama a 360 gradi che si riesce ad avere dal Monte Piglione. Quindi, consiglio spassionato, andate, andate, andate sul Monte Piglione. Perché il panorama è bellissimo, bellissimo. Detto questo, faccio un po' di pubblicità alle mie zone, insomma, sembra chiaro. Io vi saluterei qua. Sono completamente distrutto. Quindi, vi do un carissimo saluto. E vi do appuntamento al prossimo video, come sempre. Ciao! 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 Ciao!